I consiglieri comunali del capoluogo toscano possono celebrare matrimoni ma non le unioni civili. Il comunicato arriva direttamente da Palazzo Vecchio, circostanza che ha provocato qualche malumore tanto da spingere il consigliere comunale di Firenze, riparte a sinistra, Tommaso Grassi, a chiedere spiegazioni dato che fino ad oggi l'unico che ha potuto celebrarle è stato il sindaco Dario Nardella. Ci sembra un dovere e un diritto che sinceramente non comprendiamo i motivi politici perché dal punto di vista tecnico il Consiglio di Stato parla chiaramente e dice che sono estesi i diritti previsti ai codici civili. Quindi da questo punto di vista come viene fatta la delega all'inizio del mandato a tutti i consiglieri comunali per poter celebrare i matrimoni, bastava aggiungere che sono validi anche per le unioni civili. È una festa, è la festa degli sposi, non l'ennesima vetrina del politico di farsi vedere con la coppia. I primi matrimoni sono passati, ora facciamo un passo avanti e superiamo questo parere che sinceramente ci sembra un po' anacronistico degli uffici. E sul fronte del referendum costituzionale annunciato ieri a sorpresa dal premier Matteo Renzi, Grassi risponde con la campagna del no e un comizio di sinistra italiana che il primo di ottobre occuperà a Piazza Ogni Santi con i leader nazionali del partito, da Torre e Stefano Fassina. Intanto finalmente abbiamo una data, qualcuno stavano i mattina ironizzava finalmente abbiamo salvato il Natale perché a questo punto se continuava ancora a rinviare la scelta della data toccava arrivare sostanzialmente nel periodo natalizzo. Crediamo che sia una mossa assolutamente di piegare e di utilizzare come al solito ormai da parte del premier Renzi anche quelli che sono i doveri di un Consiglio Ministro, cioè quello di fissare almeno le scadenze elettorali e referendari in maniera trasparente e condivisa con tutto, come al solito decide da solo. Ora c'è da fare una campagna, c'è da convincere i cittadini a votare no e da questo punto di vista è ovvio che saremo a pieno regime impegnati fino al 3 dicembre fino all'apertura dei seggi per poter convincere i cittadini che questa riforma non va bene.